Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti a questa conferenza stampa. Io voglio iniziare esprimendo da parte mia della Giunta e da parte di tutta la comunità marchigiana che rappresento il cordoglio alle famiglie delle vittime di questo evento calamitoso e anche la vicinanza alle famiglie dei dispersi. Abbiamo ritenuto e ritengo in questa fase così difficile e complicata per la nostra comunità marchigiana a praticamente quasi 4 giorni dall'inizio di questi eventi così devastanti, anche vista la richiesta da parte di tanti organi di stampa, di tanti soggetti, di aspetti che si sono verificati nella serata e nella nottata del 15 e del 16 settembre. Tanti aspetti neanche sono di pertinenza del Presidente della Giunta di convocare questa conferenza stampa insieme a tutta la struttura tecnica che ha le competenze e anche il ruolo, la funzione di gestione di tanti aspetti che si sono verificati e che si verificano ogni giorno nella normale gestione della nostra regione, di raccontare i fatti e raccontare le procedure che vengono eseguite. Ci tengo a fare una serie di piccolissime e brevissime premesse perché poi andremo nel dettaglio. Nella vicenda della gestione dei fiumi le competenze fino al 1999 erano nelle regioni, nel 1999 sono passate alle province e sono state riacquisite alle regioni nel 2016. Nella nostra regione abbiamo 12 corsi d'acqua importanti, 12 fiumi importanti che poi se volete andiamo a ripercorrere tutti e che dal 2016 ritornano nella competenza della nostra regione. È un tema importante, poi magari alla fine farò una chiosa, però io andrei a lasciare subito la parola cercando di essere chiaramente brevi perché siamo in tanti a parlare, a tutti i nostri responsabili e poi magari alla fine potranno esserci anche le domande. Inizierei da Paolo Santroni che è il responsabile del centro funzionale che in sostanza ci racconta delle previsioni meteo che sono l'elemento che poi viene a determinare l'allerta che viene emessa dalla protezione civile. Se c'è un microfono... Grazie. Noi per procedure di allertamento, anche il giorno precedente all'evento, chiaramente abbiamo fatto le nostre previsioni. normalmente il nostro centro fa previsioni meteorologiche e poi altre previsioni che traducono gli effetti degli eventi meteorologici previsti al suolo, quindi se quella pioggia che è prevista può provocare effetti calamitosi al suolo. Tutto questo si traduce, come sapete, nei famosi codici colore, giall, arancione e rosso e anche il 14, il giorno precedente all'evento, quindi questo lavoro è stato fatto da previsioni e quindi anche da carte e da modelli matematici che la nostra aspettativa era che ci sarebbero stati dei temporali, delle precipitazioni sostanzialmente sul versante Umbro più che sul versante Marchigiano, quindi a ovest della catena appenninica e che queste precipitazioni comunque di intensità moderata, parliamo di precipitazioni di 30-60 mm si sarebbero al massimo potute spingere un po' al di là dello spartiacque dell'Appennino e quindi interessare la parte montana o alto collinare dei nostri territori ed è per questo che avevamo emesso un'allerta gialla per temporali nelle zone di allerta 1 e 3 che corrispondono all'incirca alle zone montane e alto collinari delle province di Pesero e di Ancona. Questa previsione in qualche maniera è stata confortata anche il giorno dell'evento dalle carte che ci venivano dai modelli europei che addirittura avevano migliorato la situazione del giorno precedente facendo vedere che sul lato est dello spartiacque appenninico, quindi sulle Marche addirittura non erano attese precipitazioni. Di fatto si è verificato poi nelle ore successive uno degli eventi più difficili da prevedere per i meteorologi allo stato attuale delle conoscenze che è la formazione di una cella temporalesca di grosse dimensioni, cosiddetta autorigenerante che aveva il suo centro all'incirca nella zona di Arezzo, quindi in Toscana e che però scaricava l'acqua, i quantitativi d'acqua di un'intensità, di un'enormità inimmaginabile dopo se volete ve li confronto con le precipitazioni storiche registrate dai dati in nostro possesso dal 1920 quindi questa cella autorigenerante è rimasta ferma per qualche ora a scaricare quantitativi d'acqua enormi nella stessa zona che purtroppo era una zona densamente abitata del nostro territorio. Abbiamo avuto delle cose mai viste, pensate che la massima pioggia mai registrata in tre ore nelle Marche era una precipitazione del 1956 a pedaso di 180 mm in tre ore a Cantiano abbiamo raggiunto 380 mm in tre ore, quindi la massima precipitazione registrata negli ultimi 70 anni è stata addirittura più che raddoppiata da quest'evento. I livelli dei fiumi del Nisa e del Nevola che abbiamo registrato hanno visto risalite di 6 metri in due ore cioè praticamente il fiume che era a livello di magra quindi con pochi centimetri d'acqua 10-20 centimetri d'acqua in due ore si è riempito, è salito di 6 metri ed è esondato questo di fatto è quello che è successo. Io penso poi se volete chiaramente nel dettaglio abbiamo tanti dati, li stiamo analizzando e nel giro di poche ore sarà pronto un rapporto di evento che conterrà praticamente tutta la documentazione scientifica in nostro possesso e quindi quello che vi sto adesso sintetizzando in due parole lo potrete trovare e vedere con dovizia dei particolari tra qualche ora diciamo se non nella giornata di domani Allerta gialla significa che comunque ci possono essere dei fenomeni molto violenti, molto intensi che possono comportare anche la perdita di vita umana. La differenza fondamentale tra allerta gialla e allerta arancione è l'estensione dell'area colpita fondamentalmente, l'allerta gialla prevede fenomeni più localizzati, l'allerta arancione prevede fenomeni molto più estesi. Chiaramente dai nostri modelli previsionali noi eravamo abbastanza confidenti che l'allerta gialla fosse il livello di allerta più idoneo. Vorrei aggiungere che riguardando tutto tutto quello che è stato fatto penso che se a un meteorologo venissero date in mano le carte previsionali che aveva in mano il giorno in cui ha deciso la sua previsione, quindi ha fatto la sua previsione, penso che anche oggi rifarebbe la stessa previsione che è stata fatta in scienza e coscienza, come si dice. Ora vorrei passare la parola alla responsabile della sala operativa, non spostate perché tanto c'è un'altra, Susanna Balducci, che è la sala operativa della protezione civile. La struttura della protezione civile regionale è dotata di una sala operativa unificata permanente, è una sala operativa che è sempre attiva, H24 365 giorni l'anno, è in stretta connessione con il centro funzionale per quanto riguarda le allerte e gli scenari di cui stiamo parlando. Il modello organizzativo prevede nella normalità in ordinario che ci sia un operatore sulla base di una turnistica prestabilita e laddove l'evento che si presenta invece ha necessità di essere affrontato con maggior personale siamo dotati di una reperibilità di personale ma anche e soprattutto di funzionari che possono dare supporto agli operatori di sala che si basano su procedure codificate, però laddove l'evento supera in entità l'ordinarietà hanno la possibilità di rivolgersi ad un funzionario per avere un supporto e soprattutto per capire se questo evento ha la necessità di essere anche comunicato al nostro dirigente, al presidente e a tutte le strutture che in qualche modo devono sapere che cosa sta accadendo e l'entità dell'evento. Durante il giorno 15 vi era un operatore in sala operativa sulla base del bollettino emesso e sul codice colore le procedure anche codificate con delle DGR, delle delibere di giunta ben precise che vengono condivise con il territorio con i prefetti, con i sindaci, non prevedevano il raddoppio di sala e soprattutto non prevedevano che fossero attivati sul territorio dei centri operativi deputati a prevenire e ad intervenire prontamente per questo evento. Quando nel pomeriggio ad un certo punto verso il pomeriggio tardi invece le chiamate in sala operativa hanno cominciato ad arrivare, il nostro operatore si è confrontato con il funzionario reperibile e poi ha richiesto anche ad un certo punto un supporto da parte di un altro reperibile perché le chiamate stavano crescendo. Questo però è accaduto indicativamente con l'arrivo di altro personale intorno alle 21.30. Ogni qualvolta l'operatore di sala mette in atto una procedura soprattutto quando lo scenario di questo genere, cioè idrogeologico, idraulico, il suo supporto principale è quello del centro funzionale. Il centro funzionale è individuato sulle aste fluviali nella nostra regione degli idrometri significativi, sono degli idrometri che danno l'allarme quando superano la soglia di allarme all'operatore di sala affinché l'operatore possa confrontarsi con i colleghi del centro funzionale, con il funzionario reperibile e capire effettivamente se deve mettere in atto delle procedure. Le procedure consistono essenzialmente nell'immediato nell'invio di messaggistica ai comuni individuati da quegli idrometri significativi a balle, PEC e laddove possibile anche telefonate il più velocemente possibile. Scusate il gioco di parole e la ripetizione. Bene, durante questa emergenza e quindi diciamo dal tardo pomeriggio del 15 fino alla notte del 16 queste procedure si sono susseguite ma ad un certo punto alle 22 circa dopo le 22 quando l'idrometro significativo sul Misa ha superato la soglia di allarme era talmente veloce e talmente caotico quello che stava accadendo che il nostro operatore ha preferito fare le telefonate direttamente a tutti i comuni. Nel frattempo e prima comunque i nostri operatori si erano sentiti con molti comuni proprio per confrontarsi e anche gli stessi comuni spesso lo fanno per chiederci che cosa potevano fare e mettere in atto. La risposta è ovviamente attuare il proprio piano di emergenza comunale dove all'interno ci sono le procedure che permettono di garantire in primis l'assistenza alla popolazione. Questo è un po' diciamo l'assetto, poi se... Una domanda e alla fine del giro potranno essere fatte. Ora l'ingegnere Stefoni e la protezione civile. Vuole aggiungere un po'... Buonasera a tutti, ma io adesso coordino l'attività di questi miei colleghi che hanno, come vi hanno spiegato, hanno fatto esattamente quello che è previsto dalle procedure, procedure che sono state messe a punto negli anni sulla base di esperienze e di sistemi di intervento che sono codificati anche in altre sale operative o sistemi di sicurezza di protezione civile di altre regioni, quindi sono sistemi standardizzati. Quindi io non posso confermare che è stato fatto quello che le procedure prevedevano e che purtroppo l'evento che c'è stato è stata una cosa che non si verifica, non si è mai verificata nelle Marche. Che sia stato un evento di tipo autoregenerativo come mi avete spiegato perché io non sono un meteorologo e come è stato detto da tutta Italia, da tutte le correnti di pensiero più o meno scientifiche da CNR, io quello che ho visto nella stampa mi conferma quello che mi dicono questi i miei colleghi. E quindi non posso che prendere atto che c'è stato in atto un evento imprevedibile e di dimensioni mai viste. In questo contesto noi abbiamo operato secondo le procedure e stiamo continuando a farlo adesso con l'emergenza, facendo il nostro meglio con gli strumenti che abbiamo a disposizione e seguendo le regole del gioco. Quindi non posso che anzi ringraziare il lavoro che stanno facendo. Ora io ho tante domande che ci sono state rivolte mentre eravamo a fare i nostri sopralluoghi, insomma tutte le visite nelle località più colpite, tantissime di queste domande hanno riguardato anche i lavori di messa in sicurezza, di miglioramento per tutti gli aspetti che riguardano il fiume Misa e il fiume Neua. Abbiamo sentito tanti aspetti che sono stati citati, alcune risorse erano state tolte, che insomma alcune procedure erano state bloccate, che la Regione non ha investito. Allora io credo che sia giusto anche sotto questo punto di vista per il fiume Misa e per il fiume Nebula, ma anche per tutti gli altri corsi d'acqua, perché ci dobbiamo ricordare che purtroppo nella nostra Regione sono stati, sono capitati altri eventi drammatici negli anni scorsi nei corsi d'acqua. Ecco, vorrei che l'architetto Goffi facesse una rigognizione dettagliata e specifica del numero delle risorse, delle procedure in atto, di quelle realizzate, di quelle che sono in via di realizzazione, di quelle in via di progettazione e di quelle finanziate, dal giorno del rientro delle competenze del 2016 ad oggi in tutta la nostra Regione. specificando anche, architetto, la vicenda delle casse, delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, delle risorse e le pregherei anche, se c'è magari nel dettaglio, l'illustrazione del fiume Misa e Nebula, se le possiamo proiettare, per capire anche la pertinenza. Sì, dobbiamo far salire un attimo l'immagine. Bene, adesso indicherò degli aspetti a carattere generale di programmazione della Regione Marche, poi se ci sono aspetti particolari anche l'ingegnere Stefoni potrà intervenire perché alcune opere sono state seguite direttamente dall'ingegnere Stefoni. Allora, il primo aspetto importante è questo, nel 2016, come è stato evidenziato, le competenze sono tornate alla Regione. Come tutti voi sapete, gli ultimi anni in cui le Provinci avevano le competenze dei fiumi non avevano capacità economiche perché la scelta politica era stata quella di ridurre le competenze delle Provinci e ridurre la capacità economica delle Provinci. Quindi di fatto sono passate alle Regioni e anche alla Regione Marche tutte le competenze, diciamo, sotto l'aspetto idraulico in situazione, diciamo, non ottimale. Sotto questo profilo la Regione dal 2016 ha iniziato a introdurre, a fare e a programmare dei finanziamenti importanti. Questi finanziamenti partono da 21 milioni di euro all'anno nel 2016 fino ad arrivare alla programmazione attuale che stiamo completando di 73 milioni anni. Cioè la Regione sta investendo sui fiumi in questi anni una quantità economica che credo che sicuramente negli anni precedenti, quando aveva la Provincia, era qualcosa di assolutamente minore e veramente irrilevante. Quindi la parte economica, l'investimento della Regione, da quando la Regione è diventata competente, è diventato, diciamo, un investimento importante. Questo aspetto però ha, come dire, va collocato nel tempo. Cioè nonostante gli investimenti vanno fatti i progetti, vanno approvati i progetti, devono essere attivate tutte le compatibilità ambientali, vanno fatte le gare, vanno fatti i lavori, vanno gestiti gli aumenti di prezzi che anche in questi giorni ci sono, che rendono difficile la conclusione dei lavori. Nonostante questo in questi anni si sono realizzati interventi per 50 milioni di euro. Cioè è stata messa in sicurezza quasi completamente o completamente falconare a tutta la zona dell'aeroporto. Anche in questo caso c'era stata un'alluvione negli anni passati. Abbiamo quasi completato tutte le casse, tutte le opere in prossimità della zona di Osimo, in prossimità della baraccola. Stiamo facendo tutta una serie di interventi su tutti i fiumi, perché abbiamo il Tronto, il Chienti, i fiumi minori, il Metauro, il Poglia, vi dicendo. Per quanto riguarda il Misa, abbiamo fatto opere che si sono partite dal 2018, in parte erano in costruzione e sono in costruzione nel 2022, per 15 milioni di euro. Quando si legge sui giornali che ci sono 45 milioni di euro sul Misa, non è vero. Forse qualcuno li ha pensati, li ha programmati, ma non sono stati mai erogati dal Ministero. Il rapporto del Ministero con le regioni è questo. Il Ministero ci dice ogni anno quant'è la capacità economica che ci viene versata e noi facciamo progetti con quella capacità economica, perché chiaramente non si può mandare in gara un'opera che non ha una copertura economica, quindi questo è il nostro tetto. Quindi i 45 milioni per il Misa specifici non si sono stati mai erogati alla regione e tantomeno alla provincia precedentemente. Detto questo, i 15 milioni che la regione ha investito provengono da vari finanziamenti, perché la regione non utilizza solo quelli ministeriali, utilizza fondi propri ogni anno e utilizza fondi anche del PORFES, della programmazione comunitaria, come sta facendo quest'anno, come ha già programmato. Quindi complessivamente, come dire, per arrivare ad un ammantare economico importante, vengono utilizzate tutte le leve finanziarie. Un aspetto importante, le opere che poi possiamo anche descrivere nel dettaglio, comunque realizzate, in particolar modo sono gli argini, chissà a Senigallia l'altra volta nel 2014 ci sono stati degli argini che non hanno tenuto, in questo caso non sono stati rifatti completamente. Abbiamo un ponte che è stato rifatto perché era l'elemento di debolezza maggiore e di occlusione da parte di Senigallia e poi abbiamo anche la cassa d'espansione che vale più di 4 milioni di euro che era inizio 2022 la realizzazione. Volevo dire un altro tema oltre quello delle opere, quindi quando si dice che ci sono soldi che non abbiamo utilizzato, non è vero, nel senso che i finanziamenti regionali noi fine anno li utilizziamo tutti, i finanziamenti che abbiamo, ci vengono dati dal Ministero e dalla programmazione comunitaria che fa la Regione, li stiamo utilizzando con le difficoltà chiaramente di fare delle gare, di fare le espropri e vi dicendo ma li stiamo utilizzando. Immaginate questo, quando si realizza una cassa d'espansione bisogna solo discutere anche con gli enti per quanto riguarda lo spostamento di un metanodotto o di un elettrodotto, quindi questa cosa riguarda mesi di contatti, però detto questo sappiamo che è difficoltoso fare le opere ma da quando la competenza è passata alla Regione, la Regione si è attivata il più possibile per fare le opere nella maniera più veloce possibile. Poi esiste un altro tema, viene vista la Regione come l'unico ente che gestisce tutta la maglia idrografica di tutta la Regione, non è così, nel senso che noi abbiamo un compito importante, abbiamo un compito di programmazione ma non siamo l'unico ente, faccio un esempio sul Misa solo per chiarire alcuni aspetti. I fiumi vengono suddivisi come classi, c'è la seconda classe, la terza classe e le aree non a classe. La seconda classe è di competenza della Regione completamente, in questo caso si parte da Senigallia e si arriva fino a Casine di Ostra. La terza classe che va da Casine a un altro tratto, la Regione ha la manutenzione straordinaria, mentre la manutenzione ordinaria spetta in aree urbane ai comuni, in area extraurbana al Consorzio di Bonifica e dove non sono classificate come il Nevola o altre parti, la parte più alta del Misa, la competenza sia ordinaria che straordinaria va ai comuni in area urbana e al Consorzio in area extraurbana. Quello che voglio dire è che il nostro riferimento legislativo, stiamo parlando di un riferimento che è il Reggio Decreto del 1904 e ha una sua complessità di gestione per quanto riguarda i fiumi, chiaramente, ripeto, la Regione è l'organo, l'ente che ha una capacità e una visione maggiore di altri, ma la gestione dei fiumi riguarda una serie di enti e una serie di soggetti complessi. Quindi sotto questo profilo è importante anche il coordinamento di tutti e la volontà di tutti di attivare, di realizzare delle opere per mettere in sicurezza i fiumi. Sulla vicenda, che è una domanda che ci è stata chiesta tante volte, della cassa e delle motivazioni perché il progetto del 2016 non è stato subito appaltato, possiamo fare chiarezza? Sì, adesso faccio un accenno, poi magari l'Ing. Stefoni può precisarlo meglio. Allora, nel 2016 è stato fatto un assetto di progetto che è stato pensato a una serie di opere che andavano a mettere in sicurezza il MISA. Questa serie di opere con i prezzi del 2016, quelle più urgenti valevano 45 milioni, vi viene da dire da questo che è stato riportato i 45 milioni perché le richieste sono state fatte per i 45 milioni, il progetto complessivo valeva 110 milioni con i prezzi dell'epoca. In questo caso la Regione ha attivato una serie di opere dentro l'assetto di progetto e, come dire, queste tre opere che abbiamo attivato, compresa la cassa di espressione che stiamo realizzando, è una parte dell'assetto di progetto. Quindi, come dire, l'assetto di progetto non aveva i progetti esecutivi oltre all'aspetto economico, l'assetto di progetto aveva una visione, ha una visione generale di come mettere in sicurezza la valle del MISA, i progetti che sono stati realizzati sulle indicazioni dell'assetto di progetto e la progettazione che abbiamo in corso, perché abbiamo in corso una progettazione per ulteriori opere di 17-18 milioni e ricalcono, riprendono le indicazioni dell'assetto di progetto. Quindi l'assetto di progetto vuol dire un programma di massimo che non è che si realizza in un minuto, bisogna fare tutti i progetti e li stavamo facendo mano a mano e bisogna poi avere tutta la capacità economica per realizzarlo. Ripeto, l'assetto di progetto completo con il preziario 2016 era 110 milioni, quindi vuol dire se vogliamo completare l'assetto di progetto oggi non so quanto servirà, 200 milioni, non lo so, oltre qualcosa di questo tipo, ma oltre questo un altro aspetto importante che probabilmente seguendo anche le indicazioni che ci sono state date, forse questo evento non rientrava neanche nella compatibilità dell'assetto di progetto complessivo, cioè noi quando si pensava a un evento che a livello statistico poteva avvenire a 1-200 anni e avevamo dei parametri, in questo caso questi parametri sono stati nettamente superati. Quindi abbiamo un tema di portare avanti l'assetto di progetto e di capire se dobbiamo aggiornarlo ad eventi come questi che sono eventi che non erano stati previsti neanche nelle condizioni peggiori. Grazie Architetto, io ora passo la parola ad Assessore Stefano Guzzi, Assessore della Protezione Civile. Che questo che abbiamo appena vissuto e che stiamo ancora fronteggiando sia un evento del tutto straordinario ed difficilmente prevedibile, perlomeno per come si è sviluppato, ormai è abbastanza assodato, anzi è assodato, e io su questo ho avuto una riprova anche proprio oggi parlando con i sindaci dei territori. Poco fa, proprio in una delle ultime tappe che abbiamo fatto nel pomeriggio, il sindaco di Barbara mi diceva proprio che fisicamente, gli orari perfetti non mi ricordo, mi pare intorno alle sette e mezza, diciannove e trenta o qualcosa del genere, lui era sul nevola e non c'era l'acqua quasi per niente. Nel giro di pochissimi minuti è arrivato un torrente alto due metri per una larghezza di centocinquanta metri. Quindi non è che è esondato il nevola, è arrivata una marea tipo rottura di diga per capirci, una tipologia di questo genere del tutto spaventosa che ha preso centocinquanta metri, tutto quello che ho trovato in quei centocinquanta metri, il mulino Mariani, le case dei poveri dispersi e delle povere vittime di quella zona, ha completamente trascinato via tutto. Quindi probabilmente dopo tanti anni che parliamo di cambiamenti climatici e ci facciamo accademia, poi non ne parliamo più giornalisticamente finché non succede qualcos'altro, invece dovremmo parlarne forse di più anche quando parliamo di prevenzione, non solo quando parliamo di quanto succede, forse dobbiamo parlarne di più anche quando parliamo di prevenzione. Oggi forse nelle Marche abbiamo la riprova certa, netta, che i cambiamenti climatici stanno avvenendo, perché altrimenti non sarebbe successo quello che è successo se non ci fossero dei cambiamenti climatici veri. Ed credendo molto io come persona, oltre ovviamente come ruolo di assessore, che i cambiamenti climatici sono in atto, io approfondisco spesso molto le questioni naturali eccetera, legato anche ad altri settori che oggi non c'entrano niente sotto questo punto di vista, ma danno l'idea effettivamente dei cambiamenti climatici. Parlo di ornitologia, ma oggi qui non parliamo di ornitologia, magari potessimo parlare di quello. Però i cambiamenti climatici esistono. Forte di questa convinzione, di questa certezza, fin dai primi giorni del mio insediamento, ho predisposto, diciamo così, l'impostazione dei nostri lavori, guardo Stefani, guardo Goffi, ma guardo i colleghi di giunta del Presidente, su quel che riguarda la prevenzione, non tanto il correre dopo come purtroppo siamo costretti a fare oggi. Ed su questo ci sono delle riprove abbastanza nette, che adesso io vi dico, faccio tre o quattro esempi, perché i tecnici molto più capientemente di me sono entrati nel merito di una serie di investimenti. Vi faccio proprio gli esempi pratici di come crediamo nella prevenzione e nell'investimento come amministrazione regionale, prendo gli ultimi tre o quattro anni, nel 2017 erano stati investiti parecchio, 32 milioni, abbastanza, tanto, diciamo, per 2017. 2018 2 milioni, parlo di dissesto idrogeologico, da 32 passiamo a 2 milioni, 2018 ho la tabellina qui sotto mano, 2019 16 milioni, 2020 25 milioni, 2021 32 milioni, qui torniamo ai massimi della volta prima, 2022 73 milioni 800 mila euro. Raddoppiamo la cifra quest'anno sulla previsione per fronteggiare il dissesto idrogeologico, ma non perché corriamo dietro a quanto è avvenuto, quello di oggi non era prevedibile a bilancio preventivo. Puntiamo alla prevenzione, questo è stato il primo esempio che ho voluto fare, vi faccio altri due esempi pratici, ad esempio noi nell'ultimo anno e mezzo abbiamo appaltato, sono stati realizzati i lavori, vi dice qualcosa a Trodica di Morovalle, Trodica di Morovalle è una frazione che rimaneva regolarmente sottacco ogni volta che pioveva un po' di più. Su quella iniziativa abbiamo investito 4 milioni 700 mila euro e sono stati già realizzati i lavori canalizzati e sistemati e speriamo, incrociamo le dita che non capitano più cose su quel territorio. Osimo, la zona Osimo Stazione, ma tra confine tra Castelfidarde e Osimo eccetera, abbiamo investito 6 milioni di euro, stiamo predisponendo i progetti per poter realizzare le opere. Esatto, no ma l'affrontiamo noi adesso, hai detto bene Presidente, all'Uvino 2006 io cosa ho fatto inizialmente? Con i miei tecnici ho detto dove sono le zone di maggior sofferenza in questa regione, cioè dov'è che succedono più spesso esondazioni, erosioni della costa, adesso oggi non c'entra niente alla costa, ho proprio ricercato tutti quei luoghi dove storicamente avvengono maggiormente delle disgrazie e delle situazioni di questo genere. E lì abbiamo finalizzato, quindi dicevo Trodica, Osimo, Falconara, zona a valle e anche a monte dell'aeroporto, lì abbiamo già investito 3 milioni di euro più 2 milioni e mezzo questo bilancio qui, quindi opere in realizzazione e realizzate per 3 milioni di euro sopra l'aeroporto, quindi il comune di Falconara in questo caso, e 2 milioni e mezzo a valle. Opere in buona parte già realizzate e gli ultimi 2 milioni e mezzo preventivate. Dico bene se dico questo perché poi guardo il Tecna, una volta non vorrei essere. Un'altra iniziativa che abbiamo messo in cantiere in questa fase finalizzato è il ponte sull'Aso, dove sono stati purtroppo... Stiamo cercando di finanziarlo. Certo. Il finanziamento appunto, quello che sto dicendo, dove è che fino a questi 72 milioni che dicevamo prima, dove li stiamo anche finalizzando, laddove storicamente sono successe situazioni di questo genere. Mi piace anche, e avrei voluto evitarlo con tutto il cuore, di fare anche l'esempio delle vasche di Vettolelle, di cui veramente davvero si parla da 40 anni, no? Per scherzo. Quando abbiamo fatto la conferenza stampa a Senigallia il sindaco Livetti ha portato fuori carteggi vecchi, veramente datati di decenni, di cui se ne parlava. Erano stati anche parzialmente finanziati anni molto addietro, preventivati, poi rinviati, poi non so cosa. Le burocrazie, io non sto facendo atti d'accusa, perché so quanto sia difficile stare nei comuni a fare i sindaci, quindi nulla è facile. Però dico che se ne parlava da 40 anni, quindi l'esigenza sapevamo che c'era, ed era stata individuata quella zona come un'area dove un'area di espansione potenziale potesse mitigare le piene in entrata verso Senigallia, verso l'interesse della città. Bene, quelle opere sono state appaltate ad aprile 2022, cioè questo anno, e sono in corso. Quindi chi è che ha scritto da qualche parte, parlo di stampa nazionale, c'era solo una rete rossa, quella di questo genere, se vai adesso forse c'è solo una rete rossa perché ha portato via tutto, compreso due ruspe della ditta che stava facendo i lavori, la sotterrata non si trovano più dentro le vasche di espansione, perché la inondate. Quindi sono in via di definizione. Se erano state fatte prima potevano servire? Io temo che per un evento come quello che abbiamo visto in queste ore, anche se le vasche di espansione fossero state realizzate e finite, Senigallia finiva sott'acqua uguale, secondo me. Però certo potevano mitigare o comunque iniziative di minor livello, pur gravi, le avrebbero sicuramente evitate e le eviteranno in futuro, perché comunque i lavori continueranno appena il cantiere potrà essere ristabilito e portato avanti. Quindi questo per dirvi che stiamo proprio cercando di fare in modo che non succedano queste situazioni. Un'altra iniziativa che intendiamo finanziare, ma non oggi, perché è successo quel che è successo, ma già dai mesi scorsi, è il rifacimento completo di Ponte Garibaldi dentro Falconara, perché mentre è stato rimosso dall'amministrazione precedente regionale e comunale di Senigallia il ponte come si chiama, mi sfugge due giugno mi pare, ed è stato ex, adesso si chiama in un altro modo per le vittime che sono successe all'interno azzurra, è vero. Perché? Perché i piloni al centro della città, i piloni inseriti al centro dell'alveo, è chiaro che ostroiscono. Perché per quanto, e non ci si riesce più di tanto, ma per quanto si è attenti a ripulire i fiumi, alla fine quando arriva una piena i tronchi te li porta giù e sotto i ponti si fermano. Se i piloni non ci sono passano meglio. Quindi ex Ponte 2 Giugno è stato realizzato dalla vecchia amministrazione, noi l'abbiamo solo inaugurato, ma io onestamente dico è stato realizzato dalla vecchia amministrazione, noi intendiamo anche realizzare quello che è più a monte, dove effettivamente c'è stato anche in questa occasione un contrasto, un rimpeticcio di tronchi detto brutalmente, molto visibile, che ha provocato in parte l'esondazione, ma non è certo solo quello il problema, perché l'esondazione ci sarebbe stata comunque, perché la cosa era veramente eccezionale. Quindi questo per dirvi che tutte le storie che ho visto sti giorni scritte, dette i social, sembra che non ci sia neanche il rispetto di quel che è successo, perché i giornalisti fanno il loro lavoro e ci mancherebbe altro massimo rispetto, ma chi è che è bravo a scrivere sui social, a criticare di qua di là eccetera, avesse almeno un po' di remore nel farlo, visto che ancora ci sono le persone da trovare sotto il fango oggi e ce n'erano di più fino a due o tre giorni fa. Quindi ecco, soprattutto quello che io ho letto, i soldi sono stati spostati, i soldi c'erano, non sono stati spesi. Noi abbiamo investito tantissimo e intendiamo continuare a investire tantissimo proprio per prevenire fenomeni di questo genere che saranno ai noi sempre più repentini. Guardate, stamattina stavo per dire scherzavo, ma c'è poco da scherzare, col sindaco di Cantiano e col sindaco di Cagli. Non c'entra nulla con Senigallia. Fino alla settimana scorsa attingevamo acqua da un pozzo di profondità, il famoso pozzo del Burano, per alimentare il fiume perché il fiume era in secca. Fino alla settimana scorsa. E siccome da quel fiume preleviamo a valle l'acqua per l'uso idropotabile di Fano e di Pesaro, il fiume era in secca, dovevamo attingere da un pozzo di profondità a Cantiano per buttarlo nel fiume. quella era l'emergenza della protezione civile della settimana scorsa. Attingere l'acqua da un pozzo di profondità perché non c'era l'acqua nel fiume. Oggi siamo lì a contare i danni dentro il paese di Cantiano dello stesso fiume che è esondato. È un'esondazione in montagna. Io non l'ho mai sentita, è detto in fanese. Perché l'esondazione la fa a valle. L'esondazione in montagna vuol dire che ha fatto una roba che non si era mai vista prima, che non era mai successa prima. Ragionateci, l'esondazione in montagna. Cos'è l'esondazione in montagna? Sono ruscelletti in montagna. Cosa deve esondare? Eppure è successo una cosa di questo genere. Quindi capiamo che è veramente una cosa eccezionale. Dobbiamo far sì di fare anche una rivisitazione di come intendiamo intervenire preventivamente perché probabilmente avremo di fronte situazioni di questo genere magari non di questo livello, spererei tanto, sempre più repentine. Questo è stato il lavoro che abbiamo cercato di portare avanti. Prima di passare alle domande voglio fare una ricognizione ringraziando anche la Protezione Civile Nazionale, qui da noi oggi, Curcio, il Prefetto, tutto il centro operativo, i volontari, tutte le forze che si stanno impegnando nella risistemazione delle aree maggiormente colpite, nella ricerca dei dispersi, in tutto quel lavoro che ancora è una massa enorme che va fatta per liberare i paesi, le città, dicevo prima le aree colpite. Mi preme ringraziare anche il Governo per il conoscimento in meno di 24 ore dall'emergenza, dello stato di emergenza, scusate, in meno di 24 ore da quando i fatti sono accaduti. Stiamo lavorando per cercare di capire subito quella che è la ricognizione dei danni che sono enormi, soprattutto non solo alle abitazioni private, alle attività economiche, alle infrastrutture, ci sono praticamente frazioni isolate, ponti divelti in tutte le zone dell'Alto Pesarese, dell'Alto Anconetano, ma anche nel Maceratese. Quindi che vanno anche un po' dall'area che... ritenuta la più colpita. Vi dicevo appunto che stiamo facendo una ricognizione dei danni e stiamo mettendo in campo, insieme a tutte le nostre strutture, le iniziative per sostenere le famiglie, per sostenere le imprese. Contiamo che quello che è l'impegno preso dal Governo Draghi venga mantenuto. Ci consenta soprattutto di andare incontro alle esigenze che ci chiedono famiglie e imprese, cioè la necessità di avere quelle disponibilità nel più breve tempo possibile, perché tutti sappiamo che veniamo da un periodo particolarmente complicato e complesso, dopo una pandemia, la crisi energetica, e tutti quelli che sono gli incarichi delle materie prime, tante attività, girando, ci chiedono di poter avere un sostegno subito perché altrimenti non riescono a riaprire e quindi si vede anche un'attività economica, un reticolo economico a chiudere, che indeboliscono in maniera particolare queste nostre aree interne. Io penso che potrei aggiungere tante cose. Abbiamo chiesto, l'ho fatto l'altra mattina, una lettera dopo aver parlato col Presidente della Conferenza delle Gioni, Massimiliano Federica, un programma nazionale, perché noi possiamo sicuramente impegnarci al massimo con le risorse che ci dà il Ministero. Abbiamo una programmazione europea che, se voi pensate, per l'ambiente ci darà 200 milioni, di questi 200 milioni 100 sono vincolati, ma con 100 milioni noi dobbiamo affrontare tutte le gestioni dell'ambiente, quindi da quelli che sono i dissersi dovuti alle frane, la questione legata ai fiumi, che sicuramente è prioritaria e primaria, poi c'è tutto l'impatto del mare, quindi l'erosione costiera che crea comunque pericolo alle infrastrutture e alle attività e alle persone anche in quel caso. Sono risorse 100 milioni che sicuramente se fossero spese tutte sul MISA probabilmente non sarebbero sufficienti per realizzare quel progetto realizzato dalla regione Marche. Certamente noi abbiamo incrementato anche le risorse nella gestione ordinaria e straordinaria, siamo arrivati in due anni a 6 milioni e 400 mila euro, però non basteranno, faremo di più, ma occorre un piano straordinario perché se gli effetti del clima sono quelli che abbiamo visto dobbiamo prepararci e per prepararci occorrono energie, risorse, professionalità e tutti quelli che sono gli strumenti per progettare, non ultimo anche a mio avviso sarebbe molto importante un approccio diverso, una legislazione diversa che davanti ad opere che sono funzionali, importanti, determinanti per evitare calamità, catastrofi e mettere in sicurezza le comunità, sarebbe importante che le leggi riconoscessero queste priorità e consentissero delle procedure più veloci e anche più semplificate. Io non vado oltre perché credo che sia importante per voi magari fare quelle domande che ci avete chiesto, noi abbiamo qua i tecnici che possono soddisfare quelle che sono le vostre esigenze di conoscenza più approfondita. Allora, intanto volevo chiedere se avete previsto delle risorse a bilancio regionale specifiche per la gestione dell'emergenza o per intervenire comunque in qualche modo su imprese e famiglie nell'immediato, oltre ai 5 milioni previsti dal governo? Sì, stiamo prevedendo delle misure che riguardano soprattutto le imprese e le famiglie, però è chiaro che dobbiamo avere un'interlocuzione col governo per capire e comprendere le loro intenzioni, i loro tempi e le loro dimensioni. Noi parliamo di danni che non sono in ordine di milioni né di miliardo, sicuramente di più miliardi di euro. C'è già una stima non precisa, però una stima Diciamo che abbiamo inviato dei moduli e stiamo facendo una incognizione, ma i danni sono enormi, basta chi ha girato un po' le città più colpite, le strade, i ponti e tutte le attività, le case e le attività economiche parliamo di danni, ripeto, che credo non siano in ordine di milioni ma di categoria superiore. Quindi per capirci la ragione può mettere in campo le risorse, lo farà, però non può da sola assolutamente, non possiede una quantità di risorse neanche lontanamente paragonabile a quelle che sono necessarie. Poi l'altra domanda che volevo fare era all'architetto Goffi sul Misa, appunto, l'assetto di, lo studio che era stato fatto nel 2016 che prevedeva appunto, se non sbaglio, 51 milioni per tutte le opere necessarie a metterlo in sicurezza, adesso 110 mi suona nuovo, però comunque adesso con il nuovo prezzario eccetera ha cambiato tutto, quel progetto salta e prevedete un nuovo tipo di progetto per la messa in sicurezza del Misa e se sì quante risorse servono a questo punto? Oltre i 15 milioni che avete già messo. Il progetto aveva diciamo due livelli, le priorità che erano 45 milioni e poi il progetto complessivo totale che era sui 110. Adesso io non penso che il progetto salto, io penso che il progetto deve, dobbiamo verificare se alla luce di questo evento come dire, va aggiornato oppure va ancora bene, quindi vanno fatte le verifiche dopo che abbiamo tutti i dati e poi come stiamo facendo bisogna proseguire nel realizzarlo, nel senso che appunto parte delle opere sono state realizzate, abbiamo ulteriori progetti per 17-18 milioni che fanno sempre parte diciamo del disegno complessivo, quindi non va semplicemente attuato e capito se va modificato e attualizzato all'evento. Ci sono altre domande? Ecco. Presidente. Sono Piccolillo del Corriere della Sera. Sono Piccolillo del Corriere della Sera, buonasera. Visto che appunto gli eventi climatici sono cambiati, l'abbiamo drammaticamente già capito, un altro evento del genere sicuramente diciamo non sarebbe inatteso. In questo momento quello che spaventa è che quello che si è generato e che il cambiamento climatico potrebbe generare di nuovo, speriamo sicuramente non lì, ma se ci fosse un altro evento di questo tipo come potrebbe essere fronteggiato di che cosa avete bisogno, cosa state per fare, quanto avete la necessità di avere, quale normative, cioè per capire come un'altra volta non si verifichi più un evento nel MISA. domandona nel senso che abbiamo appena ripetuto e riprovato, non detto da me ma da tanti, anche nei canali nazionali, sentivo alcuni dibattiti nelle ore scorse, questo è un evento appunto del tutto eccezionale e impensabile prima che avvenisse. Quindi dire con esattezza cosa noi riusciremo a fare o mettere in campo per evitarne di altri, io dico che siamo intanto secondo me nella strada giusta perché investire nella prevenzione è l'unico metodo per prevenire iniziative di questo genere. Io prima infatti ho detto occorrerà anche fare una riflessione più tecnica che politica sul fatto che anche quello che noi finora abbiamo pensato di mettere in campo per prevenire eventi se dovremmo in qualche modo rimodularli perché gli eventi potrebbero essere maggiori di quanto magari si può pensare. Prima ho seguito l'intervento di Goffi quando diceva una cosa di questo genere, no anzi non una cosa di questo genere, le nostre previsioni parlano di eventi che possono accadere una volta nei 200 anni, se ci sono eventi mi pare una volta nei 500 anche, mi sbaglio. Come dire, quando si fa un'opera devi sapere che non è il normale evento che può succedere tutti gli anni, una volta ogni 200 anni può succedere qualcosa di eccezionale, addirittura a volte si fanno le previsioni anche a 500, una volta ogni 500 anni può succedere anche questo, come dire calibra l'intervento per quello che può succedere ogni 200 anni oppure per quello che può succedere ogni 500 anni. Ecco, quello che dicevamo prima, diceva Goffi, l'ho ascoltato bene, qui ci sono eventi che sono usciti da quei parametri, perché un evento come questo, io credo, con questa intensità e particolarità non è successo neanche nei 500 anni, probabilmente non è successo mai. E allora è stato l'unico caso nel mondo che non succederà più oppure potrebbero riproporsi? Come dire, occorrerà non tanto nelle Marche, ma a livello nazionale, a livello europeo, pensare che forse occorre ricalibrare le attenzioni pensando a eventi che finora erano del tutto inaspettati e neanche immaginati. Ma posso anche dire qualcosa in più? Quando parliamo di risanare quanto è stato distrutto o di cercare di prevenire prima che distruggano, dobbiamo cominciare a prevenire anche quello che sono i cambiamenti climatici, perché se no non li governiamo più. Perché se i ghiacci si scioglieranno tutti entro il 2060, come si dice, tutti i ghiacciai, aumenterà il mare di oltre mezzo metro. Se il mare aumenta di oltre mezzo metro, ci sono le nostre vallate che potrebbero rientrare fino a 300-400 metri dal mare. Quindi vuol dire che città come Senigaglia, come Fano, come Feso, eccetera, probabilmente non avranno più il posto per stare dove sono attualmente. Quindi ecco, toccherà cominciare a ragionare di questo. E' grossa la Covid? Quando io dicevo domandona, lei ha fatto una domandona. E' stato qualcosa di più, direi che potrebbe essere in un evento così drammatico, difficile per tutti, però io quello che dicevo era basta una sola vasca di espansione o pensate di farne altre. Noi ci dicono di laminature, laminazioni, non so bene che cosa... C'è qualcosa che... in questo momento se voi aveste, chiaramente il presidente che poi deve dare l'indirizzo e i tecnici che lo devono supportare, c'è qualcosa che si può fare piuttosto che lasciarli nell'idea che non c'è più nulla? No, no, guardi, non è che non c'è nulla da fare. L'ha detto prima l'architetto Goffi, non so se non è stato chiaro. ci sono stati, sono stati realizzati 50 milioni di interventi su tutto il ridicolo dei fiumi della nostra regione e sono in via di finanziamento, progettazione, esecuzione, in corso quindi alcuni, altri 170 milioni. A questi si aggiungeranno quelli della programmazione europea, quindi parliamo di circa 200 milioni che sicuramente avranno un effetto di ulteriore messa in sicurezza, compatibilmente con i tempi, con le leggi, con tutte quelle che sono le procedure, da qui a tre anni, quattro anni, presumibilmente questi 200 milioni ci saranno. Più ci sono le risorse che noi stiamo investendo, risorse proprie, perché queste opere, parliamo di opere che hanno una fonte di finanziamento che non è regionale. Più ci sono le opere, manutenzioni ordinarie e straordinarie che vengono fatti con i fondi regionali, che sicuramente saranno implementati, ma per questo noi chiediamo però, mi permetto di dirle, un programma nazionale, perché non pretendiamo di risolvere tutti i problemi dei 12 fiumi che abbiamo nella nostra regione, ma se lei capisce che con queste risorse straordinarie che sono un po' PNRR, un po' programmazione europea, un po' soldi del ministero, un po' risorse nostre, proprie, riusciamo a raggiungere 200 milioni, possiamo arrivare facendo uno sforzo come regione a qualcosa in più, ma se non c'è un segnale forte, le grandissime opere di cui parlava l'architetto Goffi che sono di 100 milioni per il piume Misa, ma che vanno moltiplicati anche per gli altri corsi d'acqua, noi quelle risorse non ce le abbiamo. Allora, sicuramente noi faremo le vasche, ha detto Goffi che parlava di vasche, parlava di ponti, parlava di infrastrutture, del miglioramento delle infrastrutture che rendono meno pericoloso il corso d'acqua. Per gli eventi straordinari come quello dell'altro giorno bisogna che i tecnici ci dicano come vanno riadeguati i progetti che ci sono per il Misa e quindi quelle opere verranno realizzate con le programmazioni europee in base a quelle che sono le fonti. Il tema è però che noi abbiamo bisogno di risorse perché a fronte di questa competenza, a fronte di quello che è successo, attenzione, noi parliamo del Misa perché il Misa ha avuto un'esondazione nel 2014, il Misa ha dimostrato una pericolosità incredibile e ne contiamo oggi le vittime e ne contiamo oggi i dispersi, ma le esondazioni con situazioni di pericolo sono avvenute in tanti altri corsi e torrenti la notte del 15 di settembre, quindi gli interventi noi dobbiamo cercare risorse per farli laddove c'è una situazione di pericolo. e quindi ecco questo è sicuramente un orientamento. Nel frattempo possiamo contare tra le risorse che abbiamo e quelle che stiamo per avere e quelle che possiamo mettere su oltre 200 milioni, che però ripeto possono sembrare tanti ma non sono assolutamente sufficienti. Daniela Gurini per Beratibu. Volevo sapere a che punto sono le ricerche dei dispersi se in questi ultimi minuti ci sono delle novità. Novità particolari no, le ricerche chiaramente proseguono con oltre 100 persone direttamente impegnate su questo, anche il soccorso alpino e altri ovviamente. parrebbe, ma io su questo non è che nutro chissà quale tipo di speranze, però parrebbe che sarebbe ruminuto lo zainetto che aveva il ragazzo, il ragazzino disperso. Però non abbiamo altre notizie oltre a questo. Presidente posso? Sì. Da remoto. Sono Michele Romano, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Ciao Presidente. Tu facevi poco fa riferimento alle risorse. L'altro giorno, scrivendo per il sole 24 ore, ho paragonato, facendo ovviamente le debite proporzioni a quello che è successo tra Senigallia e l'Alto Pesarese, a un terremoto, a un vero e proprio terremoto. e allora io ho l'impressione che forse, e dico forse, le risorse ci sono, le risorse ci arriveranno. Ma c'è una burocrazia che, proprio sull'esempio del terremoto, è forse il principale nemico, guardando a quel che serve, guardando alla ricostruzione e guardando, come dire, anche alla manutenzione straordinaria. Mi riferisco per esempio ai ricorsi che sono tantissimi di associazioni, di privati che si oppongono alle manutenzioni. Quindi credo, e lo chiedo a te, se oltre al piano nazionale per le risorse non serva anche un piano straordinario di semplificazione del quale veramente se ne parla da un decennio. Beh, lo accennavo prima quando dicevo che occorrono risorse e occorrono degli interventi legislativi. Cioè noi dobbiamo semplificare affinché anche la gestione laddove non c'è la diretta pertinenza della regione ma possono intervenire enti o soggetti minori possono essere messi in condizioni di operare con più facilità. Noi abbiamo una serie di norme nel settore ambientale che sono tutte giuste ma che complicano in maniera incredibile l'azione degli enti e degli amministratori. Quindi è una burocrazia enorme. Sarebbe opportuno valutare, visto il contesto, quello che è appunto un sistema legislativo di maggiore semplicità. È fondamentale però, ecco, a monte io sono dell'opinione che accanto al sistema legislativo occorrono le risorse perché in questo momento noi abbiamo dei corsi che purtroppo tra le varie consegne tra regione, provincia e regione sono passati 15 anni dove le manutenzioni ordinarie e straordinarie non sono state all'altezza della situazione. Questo è sotto gli occhi di tutti e lo vediamo. Basta passare per le nostre valli. Noi abbiamo questo territorio bellissimo che però ha una conformazione molto complessa e delicata. In questo senso la manutenzione la si fa con le norme e la si fa anche con le risorse. Ci tengo a dire un altro aspetto che è molto particolare. La nostra regione ha avuto un'urbanizzazione molto veloce, soprattutto lungo la costa e lungo le valli, con la nascita di tante aree artigianali, tante aree industriali. Nella seconda metà degli anni 80 e poi negli anni 2000, soprattutto fino al 2010, sono nati tantissimi di queste urbanizzazioni. Quindi nuove aree cementificate lungo le nostre valli. Questo tema che sono valli fluviali. Questo è un tema molto importante. Noi stiamo rivedendo in questo momento la nuova legge urbanistica che risale nella nostra regione al 1990. Perché poi il governo del territorio significa anche mettere insieme i vari aspetti. La legge urbanistica può servire per costruire con maggiore dovizia di precisione anche gli interventi che possono proteggere gli insediamenti che altrimenti rischiano di stagione in stagione. Parlava prima l'assessore Guzzi, nel 2006 c'è stata Osimo, poi c'è stata Casette, poi c'è stata il Misa e poi il Misa di nuovo, poi la Valpotenza. Cioè noi abbiamo negli ultimi dieci anni una serie di eventi, mai nessuno con questa violenza, però che ci fanno pensare che delle opere sono assolutamente indispensabili e necessarie. Ci sono dei paesi che hanno avuto l'arrivo dell'esercito, quindi più aiuti, molti si stanno organizzando praticamente da soli, utilizzando anche tanti volontari che ci sono. Non so se è previsto appunto l'arrivo dell'esercito che è stato caldeggiato appunto da tanti cittadini e se c'è un piano di fatto di prima ripulitura dei paesi quindi vista anche la situazione Cantiano fotografata adesso è ancora praticamente al giorno zero. Allora io su questo devo dire che invece sono, tra virgolette, abbastanza soddisfatto di come si è lavorato. Perché dopo un primo momento anche di smarrimento, prendete gli amministratori locali di fronte a una cosa di questo genere, ma anche le ricerche che inizialmente sono state evocate alla ricerca delle persone più che a pulire altre situazioni. Abbiamo pensato a rimuovere, ad esempio, e stiamo ancora in questo momento lo stiamo facendo, tutti gli alberi che stavano ostruendo i corsi d'acqua e i ponti, decine di ponti stiamo pulendo in caso di una nuova eventuale potenziale piena da cui i prossimi giorni non si sa mai cosa succedere. Però su questo voglio invece portare un plauso anche alla nostra organizzazione, ma non mia, parlo dei miei collaboratori, i tecnici, e voglio ringraziare, non l'ho fatto prima, l'attenzione che abbiamo avuto e che stiamo avendo dalle altre regioni. perché dopo il primo giorno che abbiamo mobilitato tutta la nostra protezione civile regionale ed sono arrivate le colonne mobili di vigili del fuoco inizialmente dalla Toscana e dalla Emilia Romagna inizialmente, per circa 700 uomini già il primo giorno, oggi solo a Senigallia ci sono 325 persone di protezione civile provenienti da altre regioni, 325. Se mettiamo anche tutti i nostri li presenti, vigili del fuoco e altre forze dell'ordine, non parlo dei volontari, sono tantissimi volontari anche cittadini, non li conteggio, nel senso li ringrazio, ma non li conteggio, dico quelli mossi dalle istituzioni saremo intorno alle 700-800 persone solo a Senigallia. Ed è così a Pianello d'Ostra e a Ostra, è così abbiamo visto a Barbara, è così abbiamo visto a Cantiano, stamattina una mobilizzazione incredibile, quindi dire che serve l'esercito, io credo che oggi non serva l'esercito, ma non serve perché abbiamo centinaia di persone mobilitate nelle Marche, ma da altre regioni che voglio ringraziare, che voglio ringraziare. Non le elenco neanche perché ormai credo che la maggior parte delle regioni del centro-nord perlomeno stiano partecipando a questa cosa, anzi le ringraziamo sinceramente dal profondo del cuore. Un aspetto da tutto questo punto di vista, nella giornata giovedì notte sono avvenuti gli eventi calamitosi, venerdì si è dovuto approntare la macchina del soccorso, che è una macchina molto complessa e grande, quindi attivare tutte le squadre che ci raggiungono da tutta Italia. nella giornata di sabato c'era di nuovo l'allerta meteo, quindi abbiamo dovuto vedere l'interruzione di tanti lavori, già ieri però io ho girato praticamente in tantissime aree, c'erano le squadre che lavoravano in maniera molto intensa. Oggi sono arrivate nuove squadre, domani arriveranno nuove squadre, quindi speriamo che la forza che oggi è sul campo riesca a fare, e che sta arrivando perché dovrebbe arrivare il Veneto, mi risulta, altre regioni nelle prossime ore, su Senigallia in particolare, ma non solo su Senigallia, praticamente crediamo possano essere sufficienti. Però certamente se domani vediamo che i ritardi sono ancora elevati a piano regime, cercheremo insieme a Curcio di provvedere all'invio delle forze necessarie, tra l'altro Curcio è qua, abbiamo una riunione appena finita questa conferenza stampa, per cercare di essere all'altezza e essere tempestivi. Il nostro obiettivo è ripristinare il prima possibile, anche per rimuovere eventuali pericoli che possono verificarsi all'arrivo di altre perturbazioni o di altri eventi calamitosi improvvisi. Ma ormai i lavori sono partiti soltanto ad aprile 2018, che cosa, abbiamo sentito anche parlare della burocrazia, che cosa ha prodotto in particolare questo ritardo? Beh, lo spiegava prima l'architetto Goffi, l'ha detto piuttosto bene, un passaggio di competenze tra provincia e regione, e poi tutta una serie di procedure che dovevano essere finite dalla provincia, non poteva farle la regione, e poi l'adeguamento del progetto iniziale, che non era congruo rispetto alla realizzazione. Però nel dettaglio glielo posso spiegare meglio tecnicamente chi è deputato poi a seguire queste procedure, però credo che questo è un riassunto di un non tecnico. che non è stato facile. Ci hanno messo del nostro i nostri collaboratori, anzi anche i collaboratori che non sono qui in questo momento. Senz'altro. Allora la vicenda... La vicenda delle vasche su Misa non si può sintetizzare in pochi minuti, è una storia di 40 anni di procedimento amministrativo, di confronti col territorio, di ipotesi progettuali eccetera. Noi siamo subentrati nel 2016 con Dopola del Rio, che ha trasferito le competenze alla regione, a una situazione che era la seguente. C'era un progetto definitivo, approvato dalla provincia, e un appalto integrato fatto dalla provincia. Appalto integrato significa che l'appaltatore che vince la gara, oltre all'onere di eseguire i lavori, ha anche l'onere di fare la progettazione esecutiva. Noi la provincia aveva giudicato i lavori. Io prendo il comando dell'Ageno Civile di Ancona nel novembre 2019. Il tempo, un mese o due, di capire cosa bolliva in pentola, mi rendo conto che c'era questa giudicazione fatta e chiamo l'impresa. L'impresa mi dice allora la giudicazione è diventata definitiva, pare di sì e tu vieni che firmiamo il contratto. Da lì parte la storia moderna, quell'altro era tutta storia antica, c'era la storia di progetti approvati, modificati, di valutazione di impatto ambientale, ormai è storia, è inutile parlarne oggi. Il progetto, il contratto poteva essere firmato solo nel 2020, i primi mesi del 2020. Ho chiamato l'impresa, la procedura che prevede il Covice Appalti è che bisogna fare un verbale sullo stato di consistenza delle aree di cantiere per vedere se persistono le condizioni che erano state valutate in sede di offerta di gara e siccome la gara era il progetto del 2015, l'ultima versione, quella a base di appalto. La gara del 2016, la consegna dei lavori del contratto doveva venire nel 2020, cinque anni fra il progetto e la possibilità di avviare i lavori, nel frattempo ci erano state un paio di piene che non avevano fatto grandi danni, ma avevano cambiato lo stato di luoghi, quindi è stato necessario rifare il rilievo dei luoghi, di tutta la topografia dei luoghi, che ha reso necessario rifare il computo metrico perché le quantità, qualcuno in più, qualcuno in meno, erano diverse. Questo è un aspetto, ma l'aspetto più importante è stato che io ho modificato il progetto perché il progetto che mi era stato proposto era ingestibile, era un progetto che prevedeva l'azionamento di sei o sette saracinesche nel momento in cui doveva andare in funzione, come se noi il 15 avremmo potuto mandare nostri tecnici sopra un'argine che magari nel frattempo era scivoloso, c'era cresciuta l'erba in notte, andare lì a girare a mano delle saracinesche che poi quando servono magari si inceppano, ma non perché uno non gli fa la manutenzione, ma semplicemente perché si infila un rame in mezzo. Quindi la presenza di queste saracinesche che rendeva inaffidabile e anche inutile tutta l'opera. Io questo mi sono preso la responsabilità di dirlo io, di scriverlo e di modificare il progetto. Poi il tecnico dell'impresa, perché dovendo fare il progetto esecutivo, il progettista dell'esecutivo era dell'impresa, quando abbiamo deciso di fare tutte queste modifiche è uscita un'esclamazione e ha detto beh adesso lo possiamo fare, ha detto il tecnico dell'impresa. fatto sta che questo ha comportato dichiarare che il progetto ha il progetto che si è portato delle modifiche non sostanziali e su questo non eravamo d'accordo con l'ufficio della rotazione di impatto ambientale provinciale, che era l'ufficio che all'inizio aveva rilasciato la via perché quando la competenza della via era provinciale. c'è stato un rimballo fra competenze sostanziali, non sostanziali, una serie di cose per cui alla fine ci siamo ritrovati solo a inizio del 2022 ad avere questa benedetta autorizzazione sul fatto che il progetto fosse dal punto di vista ambientale addirittura migliorativo di quello precedente. E nel mese successivo abbiamo consigliato i lavori. Adesso tutte queste procedure, ho cercato di riassumerle perché dopo è tedioso e troppo tecnico, però è andato in questo modo. La fatica di arrivare a questo punto non si può raccontare. No, quello è un'altra cosa. Noi abbiamo appaltato i lavori però abbiamo dovuto anche risolvere il problema dei sottoservizi. I sottoservizi non sono stati spostati, noi abbiamo appaltato i lavori lo stesso perché fin quando la vasca non va in funzione e non si allaga i sottoservizi e vi dico cosa sono, non sono a rischio. Però al momento in cui la metto in funzione devo avere nel frattempo spostati sottoservizi. Cosa sono? Sono una linea della terna di alta tensione, una linea di media tensione, due metano dotti, quattro acquedotti di cui uno comunale e gli altri sono impianti di irrigazione dei contadini che stanno lì. tutte cose che dobbiamo mettere in sicurezza o rimuovere. Ci vorranno altri 500 mila euro, forse ancora non glielo ho detto, Goffi, ma prima o poi li dovremo trovare. Nel frattempo il candiere abbiamo fatto partire lo stesso. Sarebbe stato facile dire no, finché non ho la copertura finanziaria per spostare tutti i sottoservizi oppure finché non li ho spostati perché chi gestisce questi servizi mi voleva fermare perché gli argini non li fai se prima uno sposto i sottoservizi. Io faccio gli argini, non faccio l'apertura e quindi rimane asciutto. Intanto faccio 4 milioni di euro di lavori, dopo se devo spostare. Quindi si lavora in questo modo. Altro problema enorme, gli spropri. Gli spropri ne vogliamo parlare? Gli spropri li abbiamo chiusi dal punto di vista di un accordo bonario sul fare l'esproprio senza contenzioso sul diritto di fare l'esproprio ma ci sarà un contenzioso sull'indennità dell'esproprio. Noi abbiamo la copertura finanziaria per pagare le somme previste nel piano particolare dell'esproprio però poi ci sarà un contenzioso anche lì all'esito del contenzioso ci sarà pagare dei conguagli. Ma questo succede in tutti gli espropri. Però la procedura espropriativa è una cosa complessissima. Io per mettere d'accordo a tutti ho nominato un capo clan di tutti i proprietari. C'era un agronomo che si è fatto portavoce si è fatto portavoce di tutti abbiamo fatto una mediazione cioè qui si lavora così. Adesso sono tutti d'accordo con tutti quei soggetti che per anni non volevano essere espropriati adesso ci dicono quando finiscono queste vasche però la situazione è questa non c'è più contenzioso in quella zona con i proprietari. Questo è un fatto e questo l'abbiamo fatto noi negli ultimi anni. come vedete questa è questa è la famosa burocrazia di cui si parla spesso oggi oggi vi chiudo con questa battuta oggi tutti i comuni tutti i sindaci possono in somma urgenza fare dei lavori senza tutte queste allaccioli burocratici senza gare d'appalto perché c'è stata l'alluvione forse sarà il caso di cominciare a pensare a livello nazionale che la somma urgenza è meglio farla anche per la prevenzione per lo meno snellendo perché altrimenti saremo sempre a rincorrere le emergenze.